Ci sono stabilmente tutta una serie di incentivi che permettono poi di efficientare l'utilizzo dal lato soprattutto energetico e quindi in questo momento poi dal 2020 c'è stato il super bonus che è stato un incentivo particolarmente utilizzato dove ha visto un ruolo importante e fondamentale svolto dalle banche e di fatto sono stati gli unici soggetti che poi hanno comprato i crediti fiscali rivenienti proprio dai bonus edilizi. Sotto questo profilo c'è un impegno da parte del settore bancario a dare tutto il sostegno, in questo momento le banche sono sature per quanto riguarda l'acquisto di questi bonus e la possibilità di compensarli quindi abbiamo fatto una serie di proposte, in particolare la principale è quella di utilizzare i cosiddetti F24 dei clienti per poter rimettere in condizioni i banchi e poter fare nuove compensazioni e quindi poter acquistare nuovamente i crediti fiscali rivenienti dei bonus edilizi. C'è un impegno continuo delle banche che non passa solamente tramite i bonus edilizi ma anche attraverso l'erogazione dei cosiddetti mutui green che sono quei mutui che supportano i clienti per poter acquistare abitazioni ad alta efficienza energetica o per ristrutturare abitazioni appunto per efficientare l'utilizzo dell'energia che è un passaggio fondamentale di tutto l'approccio che deve essere sempre molto attento all'ambiente soprattutto alla sostenibilità prospettica del nostro Paese.